Un saluto a tutti da Francesco Magrone e dall'Associazione Culturale Bari in Quarta. Questo videomessaggio è per lanciare una comunicazione abbastanza forte nei confronti di chi in questo momento si sta avvicinando per bisogno alle associazioni. Stamattina è capitato che è entrata nella sede della nostra associazione una persona che ci ha detto che aveva bisogno di aiuto. Naturalmente ha trovato la massima disponibilità da parte nostra, solo che ha esordito parlando male di altre associazioni. Allora a questo punto la cosa non ci va bene. Nessuno è autorizzato a venire nella nostra associazione e parlare male di altre associazioni. Al che io ho riferito a questa persona che va bene la richiesta di aiuto, però non va bene parlare male di persone che in questo momento si stanno facendo in quattro per aiutare chi ha bisogno. Oggi i volontari stanno attraversando un periodo veramente difficile e ce la stanno mettendo tutta per aiutare tutti quanti, soprattutto le persone che hanno bisogno. Mi rendo conto che non è facile, ma ci sono probabilmente persone che vivono secondo la logica che non si fa niente per niente e probabilmente pensano che le associazioni e i volontari fanno parte di questa categoria. Beh, assolutamente no. Chi fa il volontariato puro come lo facciamo noi, e grazie a Dio sul territorio del quarto municipio ci sono tantissime associazioni che come noi si sono messi in moto per aiutare le persone disagiate, sono veramente tante. E quindi bisognerebbe riconoscere il valore di queste associazioni e non andare in giro a criticare i volontari. Oggi i volontari ci stanno rimettendo tempo, impegno, stanno facendo tutto con passione, ci rimettono anche qualche soldino. Vi posso garantire che chi fa volontariato ci rimette anche qualche soldino. Noi come volontari crediamo che oggi, e si sta naturalmente evidenziando più che mai, lo sviluppo socio-economico di un paese, di una città, di un quartiere, non può non passare dal terzo settore, quello del volontariato, quello dell'associazionismo. E penso che tutte le associazioni del quarto municipio in questo momento lo stanno dimostrando. Stiamo facendo un grande lavoro con impegno e con passione. Io ho detto a questa persona, prova a chiudere gli occhi per due minuti e a pensare se in questo momento così difficile per tutti non ci fossero state le associazioni di volontariato. Se tu oggi hai un piccolo aiuto, puoi avere un piccolo aiuto, è grazie a queste persone. Provate ad immaginare se in questo momento non ci fossero state le associazioni di volontariato. Non sarebbe arrivato neanche quel piccolo aiuto. Capisco che non è facile, capisco che magari non è mai abbastanza quello che facciamo, ma non è per colpa nostra. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Quindi pregherei queste persone di non andare in giro a criticare l'operato dei volontariati e delle associazioni, di qualsiasi associazione. Perché fare volontariato non è facile. Non è assolutamente facile. Noi ce la stiamo mettendo tutta e sono convinto che anche le altre associazioni stanno facendo la stessa cosa. Cerchiamo di capire questo momento difficile. Purtroppo devo denunciare che stiamo anche lottando contro atti di sciacallaggio. Perché si rivolgono da noi anche persone che non hanno bisogno di un aiuto in questo momento. Però per il semplice gusto di magari di avere un qualcosa gratis si affacciano alle associazioni. Quindi pregherei le persone che non hanno bisogno di non rivolgersi alle associazioni. Perché il nostro compito è già difficile, faticoso. Aiutateci. Aiutateci ad aiutare le persone che veramente hanno bisogno. Noi ce la mettiamo tutta ma chiediamo anche il vostro aiuto. Quindi continueremo ad andare avanti e a sostenere e ad aiutare chi ha bisogno. Quindi evitiamo commenti sgradevoli sull'operato dei volontari. Perché pensate solo per un momento che tutto quello che si fa lo facciamo per puro scopo di volontariato. Grazie e arrivederci alla prossima.